Mi chiamo Maria Casini e sono da Valentino dal 1967. Prima Roma la vedevo sempre a questa altezza, ad un certo punto ho cominciato ad adzare gli occhi e ho cominciato a vederli qualcosa di diverso. Io la prima volta che sono andata a Parigi era il 91 ed era la prima volta che uscivo di casa da sola e lì mi sono sentita quasi libera, in un senso di vedere tutto, me la sarei portata via, l'avevo preso Parigi, l'avevo incartata e l'avevo portata a Roma. L'ultima volta mi sono emozionata a vedere un capo, ecco quando l'ho visto indossare una ragazza che aveva un corpo stupendo. Questo vestito mi è sembrato qualcosa come una scultura, come si può dire. Valentino 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 Valentino